Il programma prima dei nomi e delle autocandidature. Grande Sud ritiene fondamentale partire dalle idee per disegnare l'aggregento dei prossimi anni. E per realizzare questo progetto si rivolge ad ampio respiro a tutti i movimenti e le forze politiche, da destra a sinistra, nessun vincolo o schema precostituito. Lo hanno rimarcato più volte il coordinatore cittadino Mario Cerchia, il capogruppo al comune di aggregento Andrea Cirino ed il consigliere provinciale Orazio Guarraci. All'incontro presenti anche il consigliere comunale Davide Lopresti e Barbara Garascia del coordinamento provinciale in rappresentanza di Mario Baldacchino. Grande Sud d'aggregento intende essere protagonista delle elezioni della primavera prossima. Certamente non si può convincere tutti che questa sia la posizione migliore, ma noi tentiamo di esserlo e successivamente andiamo ad incontrare quelli che ci stanno e considerato che Forza del Sud è un partito territoriale e quindi può anche sposare le cause più disparate per la soluzione del problema di aggregento, noi siamo in grado di poter offrire questo alla città di aggregento e agli elettori. Ed in virtù del principio che i programmi vengono prima delle persone, Grande Sud non strizza l'occhio all'autocandidatura, con il sostegno del Movimento e Polis, dell'avvocato Salvatore Pennica. Niente da obiettare sulla persona dell'avvocato Pennica, che io stimo personalmente, ma in questo momento politicamente bisogna che si faccia una strada che è quella della democrazia. Noi vogliamo essere primari e coprimari, sempre nel rispetto di quello che l'elettore di aggregento si aspetta della politica e del futuro sindaco di aggregento. Grande Sud lancia quindi il proprio chiaro messaggio a partiti e movimenti. Nei prossimi giorni inizieranno una serie di consultazioni. Per Cerino e Guarraccio è necessario uno sforzo condiviso. Incontreremo tutti i partiti, cercheremo di incontrare anche le associazioni, cercheremo di incontrare anche la società civile, per mettere appunto su carta un programma con delle idee nuove, delle idee migliori, dando anche l'aspetto di una campagna elettorale democratica e non già di una campagna elettorale con un nominativo già precostituito. Grande Sud ha già formulato una proposta programmatica da offrire a tutte le altre forze politiche, sociali, economiche, associazioni varie, senza preclusione nei confronti di nessuno, perché parliamo di avere interesse della città di aggregento. A questi poi successivamente noi, la prossima settimana o l'altra ancora, faremo un tavolo, un convegno, tutti assieme, un tavolo tecnico programmatico, dove tutti avranno diritto di primogenitura. Non accettiamo la logica che chi ha già preannunciato una propria candidatura venga a imborre il proprio candidato.